Alcuneo il 21 luglio 1919. Alcuneo è mancato nella notte del 4 febbraio 2004, 10 anni. Egli è stato un uomo dalle molte vite, ufficiale di carriere degli alpini, combattente decorato in Russia, comandante partigiano e protagonista delle grandi battaglie nell'agosto 1944 a Colle della Mandareia. Poi, con sullo sfondo non illusuale negli annali della cultura e della letteratura di una sagace attività di professionisti e imprenditori, ricercatore, scrittore, storico-orale, antropologo-culturale, infine, laureato, non riscausa, dell'Università di Torino. Vite, tutte condotte con la dura scorza dell'uomo di azione e dell'uomo favera, e strettamente intrecciate con quel misto di passioni umane, civile e di scopo negli indagini, che ne avrebbero fatto un personaggio in uso, forse e ripetibile del nostro tempo. Lo dico senza alcun intento geografico e senza che vi faccia vera l'amifizio. Bruto Arveli è stato tra i primi a scavare nelle pieghe della propria personalità, delle asperità del suo cammino esistenziale, dei primi difficili passi verso l'emancipazione di se stesso dalla prigione ideologica e dalla dimensione provinciale entro cui rindevano le pur nobili tradizioni di borgiasi menti militari della sua famiglia. E' questo con un processo autocritico costante, quasi un laico motivo impiettoposo, senza complessi, senza alcuna paura di disperarsi a sé e agli altri, consapevole, come era, che quelle contraddizioni, quei tormenti erano il sigillo, il seno, i conradiali compagni segreti di chi era cresciuto il fotografismo, allevate i miti del nazionalismo imperiale, patriottale e reazionale, da cui occorreva liberarsi, non esorcizzando o non scondendo, ma affrontando l'evento, riconquistando sul campo, con una sorta di catarsi, la possibilità di cittadino, con tutti i rischi, anche personale, che ciò comportava. Sappiamo bene che il catalizzatore, il detonatore, furono per muto rebeli da Russia, il dono, il macello dell'armia, ultimo e sanguinoso atto della gotta di Temeromoglietta, la guerra, con i suoi abissi di impreparazione, pressapochismo, bieca etorica e cieca violenza, con le miliardi di soldati morti, dispersi, connellati nelle piante distese della storia, la guerra, i cui disastri furono per lui, come per tutti della sua generazione, paragoni a sorta di spontaneo, con margari, con misteri, il punto di sdolo, il croceria della lunga marcia dentro il fascismo, che l'avrebbe portato verso consapevoli orizzonti di lotta e di liberazione. In proposito, mi vengono alla mente due episodi, due piccoli fessi, che pure mi pare la ritorolunga sulla durezza, ma anche sulla maturazione di questi percorso, in questo ritrovamento di se stessi. Il primo è tratto dalle due perle, l'ultima notizia delle regole. Forse la più scagna, non di meno così forte ed evocativa del pacato truire del discorso, in quel suo rivolgersi senza veli, ma anche senza reticenze o concessione ai lettori più giovani. Così importante per capire. Voglio capire, è sempre stato il chiodo fisso al punto. Ebbene, ripercorrendo in esse il cammino della sua adolescenza, egli ci racconta, non senza la rigona su un suo però, di quando Riccardo Cavaglione correva in 1938, fu cacciato dalla scuola perché, beh, semplicemente, lamentano il problema sia molto facile, come molto facile la maggioranza degli italiani, anche se mi è permesso un cennio autobiografico dalla mia scuola, il gioverde di Torino, allora che il compagno di classe di Guido Treves non lo ricomparmino ancora all'inizio della ricerca. Il secondo episodio di Gesù è del preannuncio di quello sdollo di cui dicevano. Anche qui sono poche parole, che incidono sul marmo, ma non furono vergogna. La vergogna, però, di chi sta a prendere l'uomo. E il fulminante incontra Varsaglia con gli ebrei, cito, vestiti di stracci, tutti marchiati con una stella gialla sorpetta sulla schiena, che vagano lungo i nostri guinari con le SS che li controllano con le armi puntate. Il turbamento espresso da quest'ultima immagine, da questa visione retrospettiva di sé e delle prime avvisazioni di Lisbeth, era il turbamento di chi sentiva di essere stato troppo a lungo passi indietro rispetto alla realtà in cui era nessuno, agli inganni, alle mistificazioni, e specularmente alle coscienze intorpidite, alle adesioni acritiche, diventando di orwelliana riprasmatura delle persone. E che tuttavia nel progredire della percezione dell'operazione della guerra e della criminale incapacità e impreparazione di chi l'aveva scatenata, era già loro passi avanti, oltre la moltitudine smarrita e rassegnata di lui. Di quegli stessi soldati che con tanto slancio di fraterno solidarietà egli avrebbe guidato nel traffico di tonno dalle sponde delle donne. Questi guardi precoci sull'altra realtà l'ho retroportato nei giorni del disfacimento e della liquefazione dell'esercito dopo l'8 settembre, lui pur ancora travagliato dai dubbi e quindi sulle sue dichiarazioni forse più per fedeltà ai suoi albini morti che percorsi la volontà politica alla scelta resistenziale. E poi, al perennemente, interrogarsi sul tema delle responsabilità per capire che da l'incorso. E' un punto questo che vorrei sottolineare perché illumina un aspetto meno apparecente della personalità dell'ingegno che però poi si appartia e variamente si ritrovano in tanti sentieri dei suoi scritti. Precarne a volte un passo, ma non a volte, indietro. Un lungo passo sino al gigantesco processo di rimozione che vuoi seppellendo pressoché da subito fatti e misfatti sotto una contrae di ufficiale perdono e di piccolo rinunciata e di silenzio? Vuoi cinicamente rimantendo all'onor del mondo chi degli errori del fascismo e dell'azismo era stato autore o quattesimo? Vuoi riscrivendo la storia a Korshatz con un procedimento revisionistico opposto ma dagli aspetti analibi innescotto con la fine della guerra un altrettanto gigantesco processo di saldifica auto-assoluzione? Mi è sempre colpito, confesso, quanto flebili o poco percepibili siano stati i barrummi di autocritica alla traison de clair che coinvolse nel nostro Paese se non il meglio, certo, la stragrande maggioranza dell'intelligenza nazionale e che a partire nel 1931 dal degradante giuramento di fedeltà al regime dei professori universitari il giuramento è riputato per usare le parole di Helmut Goerz da dodici docenti di ruolo a fronte di oltre 1200 o nonché da un quasi inverso e libero docente fresco di rincarico e immediatamente cacciato vuoi ricordarlo? Leone Ginzburg il giuramento a partire dagli anni che contribui largamente al consapevole anche internazionale della dittatura e a far pagare agli elevi più giovani quelli che per fascismo non l'avevano manco conosciuto o lo avevano solo sfiorato prima di giungere alla cosiddetta età della ragione di Revelli che la via il prezzo tremento della guerra ed è successivo faticoso acqua recupero nei venti mesi del riscatto di una dimensione etica politica e civile vi furono sì dopo l'otto settembre coraggiose purificatrici internazionale ma rimesse diciamo così le cose posto un reale un pietoso esame di fascenza fu la prima no e invece da parte di Revelli sì Revelli che assai meno se non nulla aveva da riproverarsi per il proprio essere stato costruito giovane ed entusiasta fascista fu forse il più lucido indagatore costicatore dei propri in una sorta di processo al proprio passato a se stesso di cui mi fa di sentire poi la risonanza inieti nel mondo umile rispettoso quasi autocolpevolizzantesi con cui si sarebbe tracciato verso il mondo degli ultimi e anche di lì da quella ricognizione del dolore che muove la vicenda umana di un'altra vera partigiano memorialista storico c'è un filo il fatidico filo roso che mi sembra leghi tutta la sua immensa produzione in cui si riassumono quei dati di inflessibilità e di calvinistico ai confini del cattivo carattere o forse meglio della disegnosa volezza di cui inanzi parlavo e che scandisca nella differenza degli approcci le fasi della sua infaticabile tecnologia l'onestà morale ed intellettuale sempre dicendo vigilmente autocritica il certosino scrupolo della ricerca ossessivo nella raccolta delle testimonianze degli indizi della scoperta dell'identità di la capacità di dare voce a coloro che non l'hanno e di rovesciare ai nuovi comuni di sacrare le menti e portare in primo luogo in primo piano alla luce la società vera autentica alternativa a quella di illustri e delle bonfari si tratta delle donne dell'anello forte dei caduti dell'ultimo fronte dei battigiani di parano per la destra e ancora la piliatres la tenerezza il rispetto l'approccio in punta di piedi attraverso i preziosi canali dei mediatori a questa umanità dimenticata e indifesa e nel contempo la voglia quasi l'ansia di indagare l'unica fermissimo su queste cose delle proprie nelle ragioni degli altri ad interrogarsi sui quesiti e dubbi estremi chi è il nemico chi è l'esperso in mano a schierarsi dalla parte dei giusti anche se e forse anche per questo tanto diversi domiare preziosi da questi capisaldi Luton Velli non ha mai defenduto a costo di essere impopolati al limite ostico e sgradevole come da resta sono ostici e sgradevoli in un'epoca strangiatamente opaca e apote qual è la quale tutti coloro che è revelli in prima linea non fanno sconti né tentativi di varare sulla storia questa voce nel senso dei conquisti né rieco covetti ai volti a campana di tutte le risse molto in voi nei cubi creposcopi di questo terzo milione è grande l'affresco della guerra e della resistenza ma è tardi la guerra dei poveri il piumofronto e la strada di darmi quelle voci giovani scrivere mi dicevano cose troppo importanti molto più importanti delle avventure di guerra e dei fatti d'armi così ho deciso di non soffocarlo di ascoltare altre voci sempre di contadini donne e uomini di cui la grande storia tazza e che pure come per scrivere Saramago fanno la storia verso i quali una attenzione particolarissima un chinarsi dolente su destini che sempre erano segnati da un ambiente e da una società in grado e lo stile e la stessa società in grado e lo stile del mondo dei vini di quelle pianure colline e montagne dove sudore sofferenza assegnazione miseria si mescola una saggezza dignità alla carità sacrificio dove la morte e la vita si susseguono nei cicli apparentemente immutabili del genere ed è ancora la società in grado e lo stile della niente forte dove il dialogo continua con le donne le loro storie le loro fantasie le loro maschie in quelle donne che muovendo da lontano giungono in luoghi che non conoscono per unirsi a uomini che erano affetti in fotografia e con i quali per cui per la fama dovranno accettare di spartire disperazione e fatica e umiliazione costretta di integrarsi in culture e tradizioni totalmente strane sono saranno una sorta di avanguardia se la parola non risultasse pensiva delle migliaia di altre donne extracomunitarie approdate decenni dopo i libri non sempre ospitare del nostro pezzi per esse rifonano i rintocchi di artichi serbaci ma anche i barlioni di uno nonostante possibili di pazienza rebelli amava definirsi un manovale secondo una costante tendenza all'understand che era nello stile dell'uomo e che gli è stato a nunca venire conosciuto è stato un manovale se vogliamo chiamarlo così la parola è del resto così intrisa di dura fatica da fare a noi il nostro il nostro capace di evocare con i lampi del letterato di razza gruppi frammenti e spesso più che frammenti di ambienti culture tradizioni cività al tramonto o sommersi di recuperare esistenze e vicende di persone destinate ad essere sepolte sotto la porta dell'opinione vicende che il tecnicismo degli studiosi spesso non colga o ditte o non usate sicché la fredda assetticità degli archivi conduce fatalmente all'oscurare i vissuti i soldi i drammi della cosiddetta centro comune o proprio che sono i numeri le statistiche o le rilevazioni a sovrapposti i sentimenti L'Udorabelli non fu uno scrittore elevato nel suo contrapporsi alla falsa assetticità della scienza stanno con l'escolazione che del resto ormai imponente numero di pagine a lui dedicate tra esse impegnate vicende sagge che ha dimostrato che ciò ma c'è un'ultima fase della ricerca di Minton di cui le due guerre costituisce solo l'estremo messaggio su cui vorrei fermare ancora l'attenzione in essa lo accennavano e gli scape cerca si stessero nel diverso persino nel nemico abbattete il muro di cemento che lo separa da lui chi era Rudolf Nath il solitario ancora misterioso ufficiale tedesco ucciso mentre faceva la sua quotidiana ricerca in cauta passeggiata a cavallo sul credo del gesto ogni qualvolta rivivo l'episodio di San Rocco mi rivedo davanti agli occhi quel brandello della maglia bianca di Rudolf risparmiata dall'onda lunga le fiume come segnale di un destino frutello di una vita sprecata di una risa della vita sprecata di uno quasi come lui presumibilmente tieto verso il nazismo sicuramente canchene a modo finito in questo bilanciarsi tra odio e comprensione tra la freddezza del cronista e la ricerca della verità della stessa identità del personaggio così pazientemente perseguita e solo probabilisticamente raggiuta sento i risuoni di grandi respiri del passato di allovesse di allovo e forse nella cruda messa in evidenza ancora una volta della solidità della guerra del fuoco di Pardesce anche Dombiale il severo e inflessibile parroco di Porgosan del Nazio ricordo ragazzo di sofferenza di parrocchiani e le sue frecchie sforzanti anche Dombiale è ben nonostante ciaccato ammalato perseguitato dalla sua stessa chiesa ma a differenza di Kant non è stato e non è un vinto è un giusto ha affrontato l'isoperto il fascismo famosa nostra predica contro la guerra all'alba dell'attacco alla Francia che è il suo confine per l'altro ha combattuto in prima per solo rischiosissime battaglie per scrivere decine di ebrei alla disperata ricerca di salvezza dall'assellamento e tra portazione del sistema Revelli ricava dei dialoghi con Don Luisi un vero e proprio pezzo di deduzione e di rivolta contro i socclusi e l'abbandono di quei eretti fa qualcosa di più anche in Dombiale nel suo coraggio come nelle sue volezze cerca e trova quel nucleo di se stesso impastato di intransigenze sdegno speranza che riesce a tendere un punto tra mondi così con loro distante e mi fa cogliere può sembrare parolosso ma non per questo un inconscio l'abbo di illuminismo nel savonaroliano con Dombiano ed una punta di savonarolismo nell'immunistra e mi vi a concludere queste parole introduttive ma non senza fermarmi ancora per qualche minuto su due aspetti di nutro che ha scritto rigore non rientrante nell'agenda del convegno di oggi e nella rivisitazione dei suoi contributi storici e sociologici e non dimentici non di adesso il primo è il ruolo spesso misconosciuto dal versato perché terribilmente scomodo che è nella sua cuneo sua sempre nonostante il vento insonvolito sprofondare della città per l'unico decenni entro laurea meglio che il tasto del tuo cuore e clericali piccolo portese esercitò con l'inflessibile rivendicazione del primato della politica come gli aveva per primo insegnato al freddo di una baita di paralupo un maestro di eccezione quale è più tanto di libri e dei diritti civili politici e sociali conquistati con la resistenza ed espressi nella Costituzione il ruolo gli sveglia dei dormienti dal sonno e dell'avvistamento dei pericoli che da queste forze potevano venire naturalmente riflettando alle celebrazioni e ai ritmi nostalgici e religistici mai realmente incasellabile entro una sigla partita Revelli fu in prima fila avanti ancora che si profilasse nel 1360 anche l'operazione Tamporoni nel denunciare tramite colbristi e retronomi fascisti nel incogliere il persistere e raccorsarsi dentro e dentro la reattura dello Stato e le coscienze indorbidite di molti costanti reazionati regressi nello smascherare la sua mentalizzazione in chiave revisionistica e riabilitatrice delle vicende più sanguinose amici dei milonordini della guerra informiana e della deportazione della memoria inserisamente ricorrenti in molta memorialistica posteriore sarebbe stato comprevegetto in tutto acuto avvistatore del degrado da metà anni in avanti del novecento nel nostro costume etico civile e settore in questa sua quasi solitaria sfida ai veneti della restaurazione del re mancini egli affrontò scontri turisti che il suo non conciliante carattere che il suo dir nudo e crudo ai propri antagonisti quel che pensava di loro tendevano rispetto a radicalizzare fu agendo di pecere e di grazione e anche sotto la falsa apparenza con il pretesto dell'indagine storica risqualita insinuzione che omigliante in un certo per lui ma per chi le diffondeva l'offerivano la proposta come l'offerivano le conclusioni della commissione chiamata parruccio sulla strada alle occhi di duemila soldati italiani da parte di tedeschi che contro la documentata relazione di minoranza di Mario di Bonesterno di Lucio Ceva e sua sotterrata nell'unica ogni traccia di presenza di vita e tuttavia egli seppe conservare fino all'ultimo la calma e l'equilibrio dentro egli aveva una formidabile arma di riserva il culto dell'amicizia dell'amicizia vera collaudata e rassodata al calore degli idem sentire e del comune operario con chi aveva condividito ideali lotte e sacrifici ancora sono nella memoria di molti credo non sbialiti dall'impietoso copere delle stagioni gli incontri a Verduno dove le velie e le sue impareggiabili Anna trascorrevano la prima parte del peggio all'ostimo a Villa Bianco Valdiere dove nello straordinario clima distensivo e tra loro anche il festaiolo propiziato da Alberto impagabile padrone di casa era normale incrociata con Revelli e con i compagni partigiani conesi Norberto Bobbio o Alessandro Grande che conosco Bartolo Mascarello o Giulio Enau o Giorgio Gossi Hermano Oro o Forrago Stajano o Lalo Romano Mario Andres o Riccardo Lombardi quasi uno spicchio per dirlo a Don Fabio Fusini di antistoria d'Italia e infine sull'imbrunire della vita negli anni dolorosi e doventi del lutto e del distanzo i pellegrinaggi del piccolo gruppo di superstiti dai capelli grigi nel minuscolo bar di piazza Europa nel quale quasi appollaiato al fondo di uno stretto pulizolo tra sedie e tavolini scomodi e disadori non torrevelli e gessenti nel talco come dice Giorgio la sua ultima tira prevede solo un uomo per chi è stato vicino non cercava di tanto scelta ma quando visitava l'occasione ed egli non si ritraeva era una affascinante affamuatoria credo ancora lamentino le sue lezioni di studenti che nel 1981 che nel 1981 servito di ad capazzane venne affollate le aule dell'università di calabria e nel 1986 il minuto di Giorgio di Giorgio prima di Giorgio che morire quelle dell'università di calabria ed ecco l'immagine di Dio allungato sul sofà della mia casa di volga sandal l'immancabile sigaretta accese in bocca a riocare con la sua tipica parlata lenta misurata o solente tuo donno uomo sofferenza e magia di rispettare la loro o ad indudere le battute pungenti nei confronti dei potentati di provincia degli eterni nipotini di un potere che i nostri davimente aveva sfidato molto importante dei fringuelli come amava chiamata e con queste immagini che desidero me lo consentano le solenie ritrari di questa nostra accademia re di Dio il nostro di tanti io non sono affettuati e riconoscendo maggio applausi